Giovedì prossimo 30 agosto alle 16 nell'asilo nido Aquilone di Torre in via General Cantore e alle 16.30 il Germoglio in via Oronzo è previsto il tradizionale incontro merenda di bentornato ai bambini già frequentanti e il benvenuto ai nuovi. I nidi poi riapriranno la loro consueta attività lunedì 3 settembre. Quest'anno le due strutture comunali ospitano 99 bambini con 53 riconferme e 46 nuovi inserimenti suddivisi nelle tre sezioni, piccoli, medi e grandi. Contemporaneamente a 82 famiglie sono stati riconosciuti voucher per consentire la frequentazione dei servizi nido accreditati dal comune di Pordenone. Confermati 52 bambini già frequentati e porte aperte a 30 nuovi inserimenti. La scorsa stagione l'attività educativa 2011-2012 si era conclusa il 3 agosto con la chiusura del punto verde dei nidi, un prolungamento del servizio ordinario che si era concluso il 13 luglio. Nella sede del Germoglio da metà luglio fino ai primi di agosto sono stati ospitati 48 bambini, da pochi mesi ai tre anni, allo scopo di dare un ulteriore aiuto e servizio alle famiglie. La nuova stagione dunque si prospetta all'insegna del rinnovo del servizio improntato alla qualità e professionalità, elementi che contraddistinguono gli operatori e tutto il personale che contribuisce a gestire un servizio fondamentale e delicato per la crescita dei minori. Infatti sono numerose le attività che si susseguono durante l'anno e la festa conclusiva dei nidi di infanzia, oltre ad essere una tradizione che si ripete ininterrottamente da diversi anni, è anche il compendio della programmazione formativa ed educativa. Queste immagini sintetizzano alcuni momenti significativi delle attività che si sono tenute nel corso dell'anno scolastico nei due nidi di infanzia comunali. Le feste e le rappresentazioni sono state preparate con impegno e passione dai genitori attori e dagli operatori.